La legge nazionale 157 del 1992 che riguarda la caccia ai cinghiali risulta anacronistica. Occorre una modifica sostanziale per garantire a cittadini, contadini e automobilisti l'incolumità dal passaggio dei pericolosi ungulati, animali che negli ultimi anni hanno avuto un aumento numerico esponenziale. Quattro mesi consecutivi per quattro giorni la settimana, questa la richiesta del consigliere regionale Cristiano Di Pietro, proprio sulla caccia al cinghiale. L'ordine del giorno arriva dopo la richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità all'indirizzo del Governo nazionale, con l'ampliamento dei termini del periodo di abbattimento per il contenimento della specie. Il nuovo documento impegna il Governo molisano a proporre la modifica della legge alla conferenza Stato-Regioni. La caccia rimane oggi l'unico strumento efficace per il contenimento dei cinghiali. Questa deve essere una battaglia che deve necessariamente coinvolgere tutte le regioni della penisola, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, proteggendoli dai potenziali rischi legati alla salute pubblica, sinistri stradali e danni provocati dal passaggio delle mandrie sui terreni coltivati. A tutto questo, conclude il politico di Montenero, si aggiunge la necessità dell'amministrazione regionale di dover contenere i costi relativi ai risarcimento danni.